Mi stai aggiornando per te? Credo che ci stiamo riprendendo nella nostra realtà Si, qualcosa si vedrà Magari il tetto di tempo Ci sei? Ciao! Stiamo, come vedete forse dai nostri movimenti inconsulti Stiamo andando, siamo in treno Stiamo andando a Lucca 3 Lucca Connix in Clips E siccome siamo due pirla Si Di quelli si qui Facciamo un cosplay Facciamo un cosplay praticamente inventato No, non ho inventato no, dai Stimpunk Sì, nel senso Senza grandissime, enorme pretese Ci siamo un po' arrangiati E quindi facciamo un cosplay Stimpunk Quindi il video che ho caricato Prima di partire Ho fatto vedere molto rapidamente Molto male Insomma Parti delle cose che ci metteremo addosso Poi In corso di questo video Vedrete anche delle foto insomma Come siamo facciamati Torneremo indietro a Vivi Sì Sì Vi erremo uccidi da un orgo di Goblin Durante l'ulta con O di Gnani O di Folletti Folletti L'esercito di Gandalf Un po' grigi un po' bianchi Un po' grigi un po' bianchi Un po' rosa Ma per chi? E c'erano anche un Rimmaginanzatismo Gandalfia rosa L'abbiamo fotomodificata con lui Tutto rosa Poi anche gli occhitti Oddio Il vestito Va bene Stava bene Molto bene Ci sentiamo poi Nei prossimi spezzoni Di questo reportage Da Luca Comics & Games 2013 Ah ok adesso sta firmando Non volevo firmare però proprio Vabbè Gadget ufficiali 2013 I vannichinici che bello I vannichinici Uhhh Lamu C'è una Lamu C'è che Lupin Cosa va? Lì Ciao Lupin Stato spostando la carta Stato spostando la carta Dì Hanno Già Dì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.